Presidente, il cambio di allenatore sembra abbia portato effetto. Ma sì, ma non bisogna avere fretta perché poi voi siete sempre lì pronti a criticare o puntualizzare su tutti i punti di vista. Il cambio di allenatore quando avviene è perché c'è una sconfitta da parte di tutti, dalla società, ai giocatori e all'allenatore stesso. Perciò non è un motivo di gioia il fatto di cambiare l'allenatore, ma è una scelta che viene fatta perché si pensa o ci si augura che le cose possano andare meglio. Chiaramente la partita di domenica è stata una buona partita contro una buona squadra che infatti mi meraviglia che stia navigando nei quartieri bassi perché effettivamente mi è sembrata una buona squadra. Il Parma ha fatto una prestazione tosta, caparbia, di carattere e credo che Donadoni abbia già cominciato con questo cambio di modulo per esempio a dare un pochino più di solidità nel reparto difensivo, un pochino più di concretezza a centro campo, però ovviamente come dice lui per primo c'è ancora molto da lavorare e perciò non bisogna esaltarsi né deprimersi, essere consci e consapevoli della propria forza, consapevoli di essere in una posizione di classifica buona, consapevoli insomma di essere in linea con i programmi della società al momento. È arrivato Jonathan, un acquisto importante? Sì, è un acquisto molto importante soprattutto per quello che abbiamo sentito in estate, soprattutto perché è stato scelto da una squadra come l'Inter che sicuramente non va a prendere dei gregari o dei giocatori di poco valore. Da oggi cominciamo a scoprirlo, da oggi cominciamo a vedere le sue qualità, è stata una richiesta fatta dal mister per appunto meglio assecondare quelli che sono i suoi schemi, quelli che sono le sue logiche di allenamento e ringraziamo anche l'Inter per la disponibilità che ha dato nell'operazione e soprattutto anche abbiamo visto in queste ultime ore la volontà del giocatore di venire finalmente a giocare, infatti ho avuto modo di parlargli, ha molta voglia di andare in campo, ha molta voglia di fare il proprio dovere. Il mercato è ancora lungo fino al 31 gennaio, ci aspettiamo ancora qualche colpo magari per puntare a qualcosa di più della semplice salvezza? Ma io dico sempre che noi dobbiamo essere ambiziosi, non dobbiamo pensare solo a salvezza sebbene sia il nostro primo obiettivo, ma la salvezza è il primo obiettivo di 12-13 squadre nel campionato italiano e lo è anche per noi, però dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo credere nelle nostre forze, dobbiamo essere sereni e tranquilli e non avere paura anche di guardare la classifica da un altro punto di vista. Il mercato è lungo, stiamo facendo qualche operazione in uscita anche per valorizzare alcuni giovani, ad esempio Zé Eduardo che oggi sono stato informato sia andato ad Empoli e per noi è importante perché Empoli è un'ottima società, un campionato difficile e dunque Zé Eduardo ha la possibilità di mettersi in mostra e vediamo adesso nel proseguo quello che si può vedere anche se obiettivamente riteniamo di essere coperti un po' in tutti i ruoli. Ormai sono cinque anni da precedente, si può fare un bilancio anche un po' più, oltre che un giorno nell'andata? Cinque anni che sopporto voi giornalisti e perciò mi meraviglio come faccio ancora a fare le interviste, però scherzi a parte io vivo il calcio con molta passione, con molta determinazione e forse con troppo affetto perché tante volte non vengo capito magari che certe scelte o certe decisioni le prendo per cercare di migliorare sempre quello che è il Parma, quello che è la classifica del Parma, quello che è il progetto del Parma, perciò anche quando a volte vengo contestato giustamente perché assolutamente faccio tanti errori, però magari bisognerebbe pensare che queste scelte le faccio per il bene della società, per il bene della squadra, per il bene dei tifosi e per cercare di essere ambizioso e cercare di fare qualcosa di più, non perché sia un pazzo scatenato. Questa ambizione qua, a volte è stata fraintesa questa squadra, forse quella che è un po' pagato a Colomba, nel senso che Colomba invece la sensazione che mi ha lasciato una salvezza tranquilla ma niente di più. Non so cosa pensasse lui quando parlava con me, era in linea con le mie idee, dopodiché si è rotto qualcosa, c'è stato un colloquio tra me e lui dopo la partita con l'Inter e ho preso queste scelte, ma questo non vuol dire sminuire i valori umani e tecnici di Colomba che ha fatto un ottimo lavoro a Parma e che mi sento ancora molto legato all'uomo. E tra l'altro, ripeto, non ho nessun interesse a non raccontare le cose come stanno, c'è stato un colloquio tra me e lui e questo colloquio mi ha portato a fare queste scelte. Alla fine del campionato sapremo se avrò avuto ragione o meno, però ripeto che queste scelte le faccio sempre consapevole di poter dare qualcosa di più a questa società, di poter dare qualcosa di più a questi tifosi, di poter dare qualcosa di più anche a me stesso che fino a prova contraria credo che avere un'ambizione di far meglio sia una cosa positiva e non sicuramente negativa. I giocatori come li ha trovati? Parlando con loro dal punto di vista psicologico, erano stati accusati nei giorni scorsi anche di scarso impegno da parte dell'opinione pubblica? I giocatori con me non hanno dei confronti, i giocatori devono confrontarsi con il proprio tecnico, devono confrontarsi con i propri diretti superiori. Io ai giocatori parlo e dico quello che penso e loro mi auguro che recepiscono nel miglior modo possibile, però ripeto io faccio il presidente, non faccio l'allenatore, non faccio lo psicologo, c'è tutto uno staff tecnico a loro disposizione e perciò io dico alla squadra quello che penso e mi auguro che recepiscano. Grazie a voi.